Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza potrebbero esserci disagi tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo dal Livorno. Si ricorda che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!